Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale, siamo nel secondo episodio di Distraint la volta scorsa abbiamo sfrattato la signora Godwin e oggi andremo avanti nella nostra avventura allora, come vedete offline perché è il caricamento classico del gioco perfetto, l'avevamo salvato qui a casa di Price e ora appunto andremo avanti nella nostra storia come sempre ragazzi vi ricordo che io effetto il doppiaggio dopo ok mi serve dell'acqua per il caffè userò questa caffettiera per prendere dell'acqua ok, ora praticamente andiamo nel bagno per riempirla nel lavandino forse posso prendere dell'acqua da qui arrrr, ho bisogno di caffè praticamente non esce acqua dal rubinetto è iniziata a piovere, è uno scherzo? ho quasi voglia di bestemmian dialoghi anche molto coloriti ragazzi e allora ora girerò la casa e andrò praticamente nella stanza di Price perché c'è una perdita nel soffitto e quindi sfrutteremo l'acqua piovana per il caffè non so quanto sia igienico ma un uomo ha bisogno del suo caffè ecco, ora ho dell'acqua perfetto, quindi possiamo andare a rimettere il caffè sopra come vedete è casa di Price, salotto, trattino cucina finalmente metto l'acqua qui guarderò un po' di tv mentre il caffè si prepara ovviamente ragazzi questo episodio durerà un poco di più rispetto al primo perché proprio il capitolo è più lungo rispetto a quello precedente e viva c'è il temporale meglio non rischiare quindi niente televisione ragazzi giustamente poi deve ricomprare la tv che cos'era? praticamente sentito un rumore però come vedete girando in tutta la casa non si trova assolutamente nulla credo arrivasse dal bagno non c'è niente qui vi ricordo ragazzi che in descrizione vi lascio il link per scaricarlo sia da android che per acquistarlo su steam ora andiamo a controllare il caffè che sarà pronto e sorpresa troviamo questi due signori ah 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 hai ragione cara quanto è stato ridicolo quel giorno? oh guarda caro il nostro ragazzo lo vedo dolcezza ehi figliolo non è un problema se siamo qui ci siamo presi un po' di caffè no? anche se ha un gusto strano certo con l'acqua a piazza no nessun problema stai bene caro sei davvero pallido ma voi non dovreste essere sapete morti certo che siamo morti che cosa sciocca da dire ma anche se siamo già morti ciò ti vieta di ascoltare la nostra perla di saggezza? immagino di no ed è proprio per questo che siamo qui allora ascoltaci figliolo e lascia parlare la tua coscienza d'accordo abbiamo sentito alcune cose beh spiacevoli su di te esatto io e tuo padre siamo preoccupati per te stai diventando avido figliolo non è mai troppo tardi per cambiare non sono orgoglioso delle cose che ho fatto giustamente ma guarda questo appartamento terribile voglio solo avere successo nella vita ti comprendiamo ma a spese di altre persone? pensaci figliolo tu sei meglio di così questa volta vado un poco più lento non lo so ho lavorato sodo per arrivare qui sto cercando Miss Godwin è questo l'indirizzo corretto? che diavolo sta succedendo? come vedete ragazzi praticamente noi siamo in un racconto di Bryce che ripercorre praticamente tutto il suo percorso ho bisogno del mio caffè devo ancora vestirmi come vedete nell'evolversi del gioco è una storia abbastanza ricca di significato bene ora risalviamo e andiamo a prendere il caffè il caffè è sparito super vero aiuto genitore ecco infatti non lo trovo neanche qui e a questo punto decido di andarmi giustamente a vestire ecco abbiamo visioni della signora Godwin che piange devo stare tranquillo è solo la mia mente che gioca brutti scherzi si deve essere così ok farei meglio a vestirmi offline e ora carica praticamente il nuovo capitolo che come avete letto dal titolo è Mr. Taylor fu una giornata dura la scorsa ma decisi di andare avanti comunque vi mentirei se dicessi di non aver pensato a Miss Godwin a ogni modo Mr. Taylor era il nome successivo della lista viveva in una foresta come un'eremita non aveva debiti ma il comune voleva espropriare la sua abitazione hanno costruito una strada lì sono andato da lui per sequestrare la sua proprietà ed eccoci arrivati nella foresta ragazzi come vedete ambientazioni sempre molto particolari con pochi toni di colore però molto accattivanti vi è dato a oltrepassare e ora proseguiamo lungo il percorso tra virgolette obbligato della foresta molto belli anche gli effetti di luce la sua baida dovrebbe essere qui da qualche parte ecco un altro punto di salvataggio quando ne vedete uno approfittatene sempre ok ho salvato i progressi ah eccolo qui eccola qui scusa sono Price sto cercando Mr. Taylor salve o non è a casa o mi sta ignorando devo parlare con lui è una pila di legna da ardere come vedete analizzo sempre tutti gli oggetti che vado incontrando è bloccato perché comunque non si può sapere mai se recuperi qualche oggetto e così non sfugge niente proseguiamo lungo la foresta e incontriamo Mr. Taylor salve lei deve essere Mr. Taylor sono io il mio nome è Price piacere di conoscerla risparmia il tetrino e spara le tue minacce solo perché sei qui minacce no no perché non ne discutiamo che poi discutiamo vede il comune vorrebbe costruire una strada qui porterà un sacco di gente e turismo in città e un sacco di soldi pure o sbaglio beh è proprio questo il problema con gente come voi il denaro è il vostro re dove la vostra compassione questa è casa mia signore è già stata una lunga giornata è tutto già pronto e non dimentichi che le stiamo offrendo un adeguato compenso e se rifiuta la sua proprietà verrà pignorata immagina avere altra possibilità se non cedere ecco ce l'hai fatta spero che tu sia contento mi dispiace signore scusami ragazzo so che stai solamente facendo il tuo lavoro signore se c'è qualcosa che io possa fare c'è qualcosa si gela qui fuori parliamo nella mia baita ecco prendi questa chiave io arrivo subito oh e visto che ci sei puoi accendere il caminetto certo grazie signore bene ora ci ha dato la chiave per poter entrare a casa sua e quindi dobbiamo andare a accendere il camino sfruttando poi ovviamente la legna che abbiamo visto qui fuori ho sbloccato la porta come sempre vado girando tutta la casa ovviamente solo cenere qui deve accendere il fuoco ok il solito giro dell'appartamento come vedete è pure abbastanza grande cibo per cani e una ciotola dell'acqua niente di interessante qui anche se comunque anche dal cellulare non si veda più di tanto bene però ecco un punto di salvataggio all'interno ovviamente salvo questo è il bagno che poi ci ritorneremo questo è il corridoio c'è qualcosa fiammiferi perfetto questo è il primo elemento che ci serve per ovviamente accendere il fuoco nel caminetto qua per sbaglio sono ritornati in bagno che comunque essendo che le porte sono tutte uguali ci si confonde abbastanza facilmente mi serve della legna prima ovviamente e quindi ora esco e la recupero ovviamente devo spostarmi di uno slot per metterne uno vuoto e così posso recuperare la legna appunto prendo un po' di legna vi ricordo sempre che con B tenendola premuta e A scorrete l'inventario ecco ora deposito la legna metto la legna qui e poi ovviamente la accendiamo con i fiammiferi ecco fatto dannazione la legna è umida se mi serve qualcosa che bruci subito forse della carta scusate se sentite ogni tanto tossire ma purtroppo sono leggermente raffreddato e anche un po' coinfluenzato diciamo e allora metto alla ricerca della della carta questa porta è bloccata perché poi la sbloccheremo più avanti è un letto per cani puzza in modo realmente terribile è un cestino pieno di cartacce non penso che gli serviranno usarò questa carta per accendere il fuoco ecco ogni volta dovete analizzare dovete mettere uno slot vuoto cruciverba crucipuzzle sembra che gli piacciono parecchio ecco ora mettiamo la carta nel camino usarò questa carta per accendere il fuoco dovrebbe andare ah guardate cosa ho creato ho creato il fuoco ah vedo che è acceso il fuoco bravo grazie prego è così buio qui si non c'è elettricità ma torniamo al favore di prima vedi il mio cane è scomparso e vuole che io lo trovi o la trovi la trovi è stata una sparizione strana come è successo beh era qui quando sono andato a letto la scorsa notte e per quanto ne so lei non può aprire le porte comunque alle prime luci dell'alba era scomparsa quindi dovrebbe essere in casa l'ho pensata anch'io ma non riesco a trovarla se la trovi sarò felice di firmare qualunque documento tu abbia abbiamo un accordo signore inizierò le mie ricerche buona fortuna ragazzi quindi ora dobbiamo tornare dove abbiamo visto la cuccia del cane per poter cercare indizi ecco qua ok questo letto per cane puzza di pipì e sapone potrebbe essere importante chiederò a Mr. Taylor al riguardo quindi ora torniamo indietro e gli chiedo il perché faccia puzza di sapone cioè puzza profumo dice ho notato che il letto del cane ha un odore strano si abbiamo avuto un piccolo incidente con una puzzola ieri o la puzza comunque ci ho messo un'ora a togliere la puzza di dosso un sacco di shampoo e un sacco d'acqua questo spiega l'odore sono sicuro che questo aiuti vado a cercare ok ora come vi dicevo ritorniamo nel bagno dove appunto lui ha lavato il cane per cercare altri indizi credo che qui ha lavato il suo cane puzza ancora ok fammi pensare se il letto del cane puzza già così tanto mi chiedo cosa sarà l'odore del cane come sarà l'odore del cane credo che seguirò il profumo ok con la scusa do un altro colpo di salvataggio e come vedete ora ci ha attivato una specie di scia da seguire per poter trovare appunto il cane ecco come vedete la scia si ferma nella porta chiusa c'è un buco in questa porta il cane deve essere passato da qui la porta è chiusa con una combinazione non posso seguirla parlerò con mister taylor quindi andiamo a parlare con mister taylor e vediamo se ci da la combinazione per aprire appunto la porta c'è una porta chiusa nel corridoio dove porta perché beh c'è un buco nella porta credo che il suo cane sia passato di lì avrebbe senso c'è una vecchia cantina dietro quella porta ma non la uso da anni potrei dare un'occhiata ma mi serve una combinazione per aprirla oh si com'era è lunga sai temo di aver dimenticato la combinazione ma non sono uno stupido ne ho una di riserva è fantastico dove posso trovarla vedi adoro i puzzle di tutti i tipi credo che la combinazione sia una di quei puzzle se non ricordo male la parola di cui hai bisogno è tree quindi memorizziamo questa parola si è quella ok darò un'occhiata ehi ragazzo grazie per esserti preso la briga non si preoccupi quindi ora dobbiamo risolvere questo piccolo indovinello ritornando nella stanza di mister taylor come abbiamo visto in precedenza c'è un tavolo con dei cruci verba ora andremo ad analizzarli e come potete vedere c'è praticamente la parola tree che vi ho evidenziato in rosso e dobbiamo prendere i numeri sovrastanti quindi 5678 5678 ok una volta che li memorizziamo possiamo andare ad aprire la porta perché abbiamo ora la combinazione che vi ricordo è 5678 ok andiamo ad aprire la porta va bene vediamo ok semplicemente con la selezioniamo il numero e poi con le freccette scorriamo niente di più semplice ok 5678 ok confermiamo con la freccettina fatto e ora sta caricando la cantina ed eccoci in cantina come vedete continua la scia di profumo qui c'è un piccolo blocco e quindi siamo costretti a entrare qui e qui troviamo una lavatrice è una lavatrice non funziona non c'è elettricità comunque ancora poi ci ritorneremo ecco un altro punto di salvataggio prima andiamo uno sguardo qui a un vecchio compressore vediamo se c'è ancora qualcosa dentro non è successo niente perfetto qui ovviamente ora salvo ok salvato i progressi e proseguiamo seguendo la scia martello sega chiave inglese chiodi uh cos'è quello senza dubbio questa tannica di benzina può tornarmi utile là c'è una porta che esce praticamente fuori il famoso capanno che avevamo visto in precedenza ora sto tornando indietro per caricare la benzina nel compressore riempire il compressore con questa benzina ok ha funzionato guarda lì e abbiamo un pochettino di luce finalmente ok ora torniamo alla lavatrice per vedere cosa c'è dentro l'alimentazione è accesa ora vediamo ecco qui c'è una piccola parte horror del gioco secondo me l'hanno bilanciato abbastanza bene merda c'è qualcosa dentro fiu è un guanto per un attimo ho avuto paura e abbiamo recuperato un guanto ok ora ripercorriamo di nuovo la strada seguendo sempre la scia e torniamo appunto alla cantina ok come vedete la scia continua verso destra qui ho sbloccato la porta semplicemente per poterla poi utilizzare dopo ok c'è un buco nel muro e nel pavimento il cane sarà passato di qui non ci sono dubbi ok ora andiamo alla ricerca del cane guardate siamo di nuovo nella foresta e qui abbiamo un primo indizio come sempre devo levare il guanto dall'inventario merda spero che non sia suo questo sangue che poi diciamo si vede pure un pochettino male perché è abbastanza scuro in questa parte ecco qua il cane che ha massacrato una volpe qui bella non me la sento ad avvicinarmi troppo quindi proviamo con il guanto per attirarla qui bella ecco fatto vieni qui chi è una brava bambina parte demenziale uof uof il tuo prodotto è preoccupato per te dovresti tornare a casa ok abbiamo riportato il cane e quindi possiamo tornare alla baita ma all'improvviso sbuca un elefante gigante ovviamente insanguinato e cade nel ponte giustamente come un pero perfetto siamo obbligati ad andare a destra e incredibilmente ora incontriamo di nuovo la baita l'hai trovata grazie ragazzo ho firmato i documenti puoi trovarli dentro ma ne vado immediatamente sarà più facile così arrivederci signore ok e anche mister taylor siamo riusciti a sfrattarlo ok meglio se vado a prendere i documenti ecco come sempre i nostri tre titolari figliolo che gioia vederti un altro lavoro fatto bene fatto bene vabbè non vi ripeto tutte e tre cose credo ti fossi rammollito fargli il favore di cercare quel pidocchioso cane bastardo sembrava veramente gent nonsense insomma se ne fregano praticamente avresti dovuto solamente prendere a calci quel culo inutile diranno che sono leggermente spietati questi tre la prossima volta deve essere severo ho capito non capisci non vorrei mica farci pentire di aver scelto te no signori questo è lo spirito grazie per questa opportunità signori questo mi ricorda qualcosa di enorme importanza sarebbe non ti abbiamo ancora visto ballare figliolo in chia più importante così wow adesso balla figliolo si signori ok qui immaginatevi andiamo a comandare si questo è il nostro ragazzo si ora più veloce insomma siamo il loro burattino personale ok ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo capitolo io come sempre vi invito a lasciare un mi piace se appunto l'episodio vi è piaciuto un eventuale commento per dirmi cosa ne pensate di questo gioco io comunque lo porterò avanti perché mi piace moltissimo secondo me dà pure un bel messaggio come poi potrete vedere e niente ragazzi ci vediamo in un prossimo episodio di di strength ciao ovviamente salvo i progressi perché sennò poi devo rifare tutto il percorso fino a qui ok ragazzi ciao 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 ciao